È ormai chiaro che all'interno della Residenza per Anziani e Santa Maria di Atesta si è sviluppato un focolaio di Covid-19. Secondo gli ultimi dati a disposizione sono infatti 20 casi positivi, la metà delle persone, tra ospiti e operatori che gravitano sul centro. Il numero include anche le due persone decedute nelle scorse settimane, mentre si è in attesa dell'esito del test su un terzo ospite venuto a mancare lo scorso 10 aprile. Un dato definito allarmante dal sindaco Giulio Borrelli che per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica ha emesso un'ordinanza che dispone il test molecolare su tutti gli operatori, vieta l'ingresso di visite e nuovi ospiti nella struttura. Inoltre, a conclusione della propria attività lavorativa giornaliera, l'operatore deve in via preferenziale per notare nella stessa struttura di lavoro. Ho emesso una ordinanza sulla base delle informazioni e della relazione che ci hanno trasmesso in asse dei carabinieri perché il personale è libero di muoversi, di entrare e di uscire, naturalmente a fine turni torna a casa, può andare in giro nei propri comuni di residenza e siccome lì c'è un focolaio il rischio che il contagio dall'interno della struttura si trasmessa all'esterno c'è. E siccome su questo non sono state prese particolari misure, allora io nell'ordinanza ho dato alcune indicazioni che riguardano non solo ribadire e rafforzare tutte le misure che già sono in vigore e che la cooperativa che gestisce il centro sta applicando ma delle misure aggiuntive in via precauzionale che riguardano appunto il personale. E si dice che appunto innanzitutto dovrebbero, se possibile, rimanere e scegliere di rimanere anche dentro la struttura. Lì tra l'altro ci sono posti e c'è spazio perché è certificato e sono autorizzati per 47 posti letto e gli ospiti attualmente ricoverati sono 21. Ma se questo non è possibile la ASL o i proprietari della struttura possono scegliere altra residenza, alberghiera dove possono stare il personale una volta finito le ore di lavoro oppure se vanno a casa usare tutte le precauzioni possibili e fare solo il percorso da casa al centro evitando in questo momento fino al 3 maggio, fino alla data diciamo di scadenza del provvedimento governativo che in pratica impone certe prescrizioni su tutto il territorio nazionale e quindi anche sul nostro fino al 3 maggio dicevo di limitarsi a fare i percorsi strettamente indispensabili per raggiungere il posto di lavoro.